La questione delle nomine continua ad agitare i partiti. Nel Partito Democratico nuovi ostacoli per il segretario Caterina Lengua alla luce della rinuncia di Leonida Gabrieli. L'avvocato e consigliere comunale era stato scelto per guidare il Dipartimento Giustizia e Sicurezza del Partito. Difficile pensare che Gabrieli possa scendere in campo come candidato coordinatore cittadino, ma è un nome comunque autorevole. Intanto i circoli si mobilitano laboratorio democratico che dovrebbe avere un peso decisivo nella scelta del successore di Barra ha affidato all'assessore Livio Petitto il compito di condurre le trattative verso il congresso di Avellino. C'è bisogno di unità perché la cittadinanza ce lo chiede, soprattutto in città. Quindi bisogna far propri, così come ha fatto il laboratorio democratico, gli appelli lanciati dal sindaco di Avellino e dal senatore De Luca. Appelli all'unità. Per raggiungerla bisogna organizzare una serie di appuntamenti e trovare un'intesa dal punto di vista politico-programmatica. Il partito deve essere propositivo verso l'amministrazione, a maggior tutela quindi del sindaco e di tutta la giunta e del consiglio nella piena integrità. Quindi bisogna individuare una persona che sappia unire le diverse sensibilità del partito e traghettare appunto il partito democratico alle consultazioni regionali. Con il rientro dei cosiddetti dissidenti, tra virgolette, si apre una nuova stagione per il partito democratico, soprattutto in seno al Consiglio Comunale. Solo dal confronto tra i circoli con il sindaco e il senatore De Luca verrà fuori il nome del nuovo segretario cittadino. Sull'altra sponda nomine congelate dopo il rinvio della conferenza stampa che i vertici provinciali del PDL avrebbero dovuto tenere oggi. Francesco Passariello è tornato all'attacco. L'iniziativa della Cosenza e le prese di posizione dei dirigenti del partito, dice Passariello, sono un chiaro segnale di sfiducia nei confronti del vice coordinatore Cusano, ma lo scontro interno, aggiunge, non può e non deve scadere nell'offesa personale.